Ci troviamo all'interno dell'Officina delle Piante, il laboratorio di operatore agricolo. Troviamo adesso i ragazzi che si stanno occupando delle piante. Dietro di voi vedete una ragazza del secondo anno che sta mettendo a dimora le piante grasse. Dietro di me trovate il laboratorio di idroponica, dove le piante vengono coltivate tramite un circuito in cui si utilizza sempre la stessa acqua e sul prato abbiamo le luci per la crescita delle piante. Troviamo vari colori, dal bianco all'azzurro al rosso. Il rosso serve per la crescita delle foglie, mentre il rosso serve per la crescita dei fiori. Queste luci hanno uno spettro completo, per cui ci sono i vari colori. I ragazzi durante l'anno si occupano della coltivazione in questo laboratorio, che è il laboratorio al chiuso. Poi abbiamo anche un laboratorio all'aperto, che sono i due tunnel e una serra, dove si fanno le varie attività. Questo ambiente è riscaldato, è un ambiente chiuso, quindi è come se fosse una serra. Quindi ci consente durante l'anno di poter coltivare le piante all'interno del nostro corso. Alla prossima!